il tema della lezione odierna è incentrato sulla disciplina dell'unione civile in particolare in questa video lezione cercheremo di vedere quali sono le caratteristiche principali di questa disciplina da dove questa disciplina deriva e qual è l'assetto che con l'introduzione di questa disciplina si è dato al diritto della famiglia cercando anche di valutare in una prospettiva di jure condendo quale potrebbe essere un modello adeguato e contemporaneo della disciplina del sistema delle famiglie ora la disciplina dell'unione civile come è noto nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta con la legge 20 maggio 2016 numero 76 e si tratta fondamentalmente di una disciplina con la quale si è inteso offrire una protezione di tipo familiare alle coppie cosiddette omosessuali e infatti se noi guardiamo il titolo della disciplina della legge 20 maggio 2016 numero 76 è per l'appunto regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze la legge 20 maggio 2016 numero 76 dunque ha come obiettivo fondamentale per un verso introdurre nel nostro ordinamento giuridico la disciplina delle unioni civili ossia di un sistema familiare per persone del medesimo sesso e dall'altra parte ha regolato la disciplina delle convivenze sicché per effetto della introduzione della legge 20 maggio 2016 numero 76 diciamo che i sistemi familiari per ora usiamo questa espressione si dividono in due tipi di sistemi familiari quello del matrimonio al quale possono accedere soltanto persone coppie di sesso diverso e la unione civile al quale possono accedere soltanto persone dello stesso sesso devo dire che già in questo modo si capisce come il sistema è assolutamente inadeguato perché alla fine è un sistema che crea dei regimi familiari differenti a seconda dell'orientazione dell'orientamento sessuale della persona questo è fondamentalmente poco coerente con un quadro di principi e di valori tipico di una società contemporanea dove la differenza non dovrebbe essere data dall'orientamento sessuale della coppia ma dovrebbe essere data dalla disciplina sostanziale comunque ci ho detto come siamo arrivati alla disciplina della unione civile in Italia l'introduzione della disciplina dell'unione civile in Italia come è noto è una disciplina lunga una disciplina faticosa perché ci sono ancora oggi devo dire forze politiche addirittura contrarie alla individuazione e alla regolamentazione dei rapporti familiari tra persone del medesimo sesso ci si arriva ovviamente non perché il Parlamento ha avuto un moto proprio di iniziativa ma perché lo spirito riformista è partito fondamentalmente da parte della nostra Corte Costituzionale ci si arriva attraverso una sentenza fondamentale della Corte Costituzionale che è la sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 2014 numero 170 perché dico si arriva alla legge sulle unioni civili successivamente a questa sentenza della Corte Costituzionale perché è questa Corte Costituzionale che per la prima volta afferma l'esistenza di un principio e cioè invita proprio espressamente l'ordinamento italiano ad adottare immediatamente una disciplina che potesse garantire un rapporto di coppia tra persone del medesimo sesso diciamo che il Parlamento italiano si è trovato per così dire costretto ad approvare questa legge dell'unione civile e probabilmente se non ci fosse stato l'intervento della Corte Costituzionale ancora oggi non avremmo avuto la legge sull'unione civile a me sembra una legge fatta molto male io sono molto, diciamo, contrariato da un sistema familiare che distingue da un sistema di diritto familiare che distingue le discipline come si dice familiari, matrimoniali a seconda dell'orientamento sessuale perché secondo me l'orientamento sessuale non dovrebbe scegliere se io quindi mi proietto verso il futuro io mi immagino un futuro in cui l'ordinamento giuridico crea il matrimonio come struttura familiare forte e una unione civile come struttura familiare debole però è un sistema nel quale tanto il matrimonio come l'unione civile che si differenziano soltanto per la disciplina in quanto l'una è una disciplina cosiddetta matrimoniale forte l'altra è una disciplina matrimoniale debole sono delle discipline alle quali possono accedere le coppie indipendentemente dall'orientamento sessuale di ciascuna di esse però a prescindere, come dire, da questa mia rotazione personale vediamo il caso che ha occasionato la sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 2014, numero 170 è quel caso che diventa noto come il divorzio imposto il caso, diciamo, spogliato delle sue particolarità si può riassumere in questo modo esistono due soggetti che sono coniugati tra di loro e quindi hanno contratto un matrimonio questi due soggetti sono un uomo e una donna accade che una delle due parti di questo matrimonio in particolare mi pare che fosse l'uomo si sottopone a un intervento di cosiddetto transessualismo tale per cui, come dire, viene modificato diciamo modifica la sua sessualità e di conseguenza, diciamo, transita dal genere maschile al genere femminile ora, la legge sul transessualismo che esisteva in Italia prevedeva che nell'ipotesi in cui una persona accedeva al diciamo al procedimento del transessualismo e otteneva una sentenza di rettificazione del sesso qualora questa fosse sposata il matrimonio si sarebbe sciolto proprio questa norma è la norma che viene incriminata perché contrariamente a quello che si possa pensare le due parti di questo matrimonio nonostante una delle due avesse compiuto questo percorso e di conseguenza avesse raggiunto la posizione sessuale esattamente identica a quella dell'altra non hanno chiesto o non volevano lo scioglimento del matrimonio tuttavia l'ufficiale di stato civile nel momento in cui annota la sentenza di rettificazione di sesso si chiama così anche se la parola è molto brutta rettificazione di sesso provvede allo scioglimento del matrimonio avverso come dire questo provvedimento ricorre la coppia perché la coppia dice è illegittima una norma che impone il divorzio se noi fondamentalmente non lo chiediamo e qui la corte costituzionale come dire afferma due principi fondamentali allora in primo luogo dice che deve considerarsi in contrasto con l'articolo 29 della costituzione l'esistenza di un vincolo matrimoniale tra persone del medesimo sesso cioè la corte costituzionale giustamente si trova a lavorare a bocce ferme e dice guarda ci troviamo in un sistema nel quale come dire ci troveremmo di fronte a un matrimonio tra persone dello stesso sesso proprio per evitare questo dice e questo sarebbe il suggerimento il famoso principio di diritto che determina la che costituisce questa spinta fondamentale per l'approvazione della legge sull'unione civile stabilisce che è indispensabile che il legislatore con sollecitudine introduca nel nostro ordinamento giuridico una forma alternativa e diversa dal matrimonio che consenta l'unione civile a persone del medesimo sesso ecco devo dire che questa sentenza della corte costituzionale la quale si lascia apprezzare per molti versi ovviamente si pone in una prospettiva molto di retroguardia sotto altri in primo luogo perché considera che l'articolo 29 della costituzione valga a tutelare un vincolo matrimoniale tra persone dello stesso sesso in realtà questa è una interpretazione come dire orientata rispetto a quello che storicamente è accaduto però se noi leggiamo tutto il testo costituzionale a me non mi pare che nel testo costituzionale si dica o si evidenzi che il matrimonio può esserci soltanto tra persone di sesso diverso al massimo norme che presuppongono una diversità del sesso nel matrimonio non sono contenute nella costituzione ma sono contenute nel codice civile sicché fare dire alla costituzione che il matrimonio è una unione una forma matrimoniale riservata a persone del medesimo sesso mi pare come dire un'interpretazione costituzionale non condivisibile è ovviamente condivisibile il fatto che bisogna prestare un meccanismo di tutela è sicuramente condivisibile che bisogna subito prevedere una disciplina che bisognava prevedere una disciplina di tutela per la famiglia di persone formate allo stesso sesso forse diciamo non è tanto condivisibile che quasi questa disciplina delle unioni civili che questa disciplina della tutela delle persone tutela della famiglia di persone dello stesso sesso dovesse essere diversa da quella del matrimonio in effetti se poi andiamo a vedere il principio di diritto intenso più tecnico perché questi sono principi un po' ricavati tra le parole della corte ma non che non costituiscono il cosiddetto faglio cioè il cosiddetto dispositivo se andiamo a vedere il dispositivo è un po' più semplice e più tecnico perché dice sono costituzionalmente illegittime le norme di cui articoli 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 numero 164 cioè le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio consenta comunque ove entrambi lo richiedano di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con un'altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e obblighi della coppia medesima con le modalità da statuirsi dal legislatore quindi una sentenza della corte costituzionale che certamente si deve apprezzare nella parte in cui come dire invita il legislatore italiano a riflettere prontamente sull'adozione di una disciplina che prevedesse un sistema di tutela per le famiglie di persone formate dallo stesso sesso che d'altra parte merita di essere criticata nella parte in cui ipotizza o interpreta l'articolo 29 come norma che prevede un matrimonio necessariamente tra persone del diverso sesso e dunque come corollario di questa interpretazione nella parte in cui ipotizza che una regolamentazione del sistema familiare tra persone dello stesso sesso dovesse avvenire con uno strumento diverso dal matrimonio come dicevo diciamo io mi trovo fortemente contrariato in contrasto con questa impostazione perché credo che l'orientamento sessuale delle persone non possa e addirittura secondo me ci potrebbero essere profili di incostituzionalità non possa giustificare la scelta verso uno o altro del sistema familiare e allora vediamo un po' questa legge 20 maggio vi dicevo che questa legge del 20 maggio ha fondamentalmente due obiettivi da un lato tutela la disciplina dell'unione civile e dall'altro la disciplina delle convivenze ovviamente la disciplina delle convivenze non costituisce oggetto di questa lezione ciò che è interessante rilevare è che mentre la disciplina dell'unione civile è dunque una disciplina che specificamente riguarda soltanto le coppie formate da persone del medesimo sesso e questo risulta molto chiaro nella stessa definizione di unione civile che la legge ci propone infatti si dice al comma 1 ho dimenticato di precisare che questa legge in realtà si compone di un unico articolo e di numerosissimi comma quindi non ci sono tanti articoli ma l'articolo è uno e ci sono una probabilità di comma in particolare al comma 1 2 3 stabilisce proprio la disciplina dell'unione civile cioè la legge come istitutiva delle unioni civili mentre dagli comma 36 in poi questa legge si regola la disciplina della convivenza dicevo che la particolarità è che mentre la disciplina dell'unione civile costituisce una formazione costituisce una famiglia formazione familiare tra persone del medesimo sesso la disciplina delle convivenze è una disciplina generica nel senso che è una disciplina che può riguardare sia le coppie di conviventi omosessuali sia le coppie di conviventi eterosessuali allora adesso diciamo per brevissimi cenni occorre vedere quali sono le caratteristiche tipiche di questa disciplina e quindi vedere la disciplina dell'atto e la disciplina del rapporto per poi entrare come dire più nel vivo della analisi della disciplina sull'unione civile e prima di fare questo è necessario come dire tenere conto che questa legge è una legge che nasce con tanti pregiudizi o meglio più che una legge che nasce con tanti pregiudizi è una legge che in se stessa reca una notevole quantità di pregiudizi il pregiudizio come dire di fondo che è un po' strisciante in tutta questa legge sull'unione civile è quella che l'unione civile non è una famiglia c'è quasi l'idea di volere conservare il concetto di famiglia esclusivamente alla coppia eterosessuale è privare come dire dell'attributo familiare quello della famiglia e questo diciamo pregiudizio si traduce anche in una scelta di carattere tecnico molto pesante perché questa legge espressamente diciamo nel primo comma che già avevamo richiamato e che qui in questa ritorna la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi di articoli 2 e 3 della Costituzione ecco qui abbiamo proprio l'utilizzo di uno strumento tecnico attraverso il quale gli interpreti hanno cercato di costituire una differenza da un punto di vista proprio epistemologico sostanziale tra da una parte l'unione civile e dall'altra il matrimonio perché mentre si dice che il matrimonio è una famiglia qui si dice che l'unione civile tra persone dello stesso sesso peraltro considerate che nella legge ritorna sempre l'unione civile tra persone dello stesso sesso tra persone dello stesso sesso è proprio anche pesante nella lettura perché c'è questo insistere tra persone dello stesso sesso diciamo la qualifica vi dicevo non come una famiglia ma come una formazione sociale ora è nota la teoria delle formazioni sociali e qui non avrebbe senso come dire ritornargli così come è noto che la famiglia è essa stessa una formazione sociale è una formazione sociale un po' particolare perché è caratterizzata proprio dall'affectio familiaris dall'affectio coniugalis se vogliamo dall'affectio maritalis il nostro legislatore proprio per dire che esiste una differenza tra la famiglia quasi come se fosse la famiglia vera e l'unione civile che è un'altra cosa diciamo realizza questo risultato che è l'esito di un pregiudizio culturale molto forte che ancora è radicato nella società contemporanea dicendo che la coppia omosessuale in realtà non è una famiglia che cos'è una formazione sociale ovviamente si tratta di un tentativo come dire interpretativo che dal mio punto di vista è un tentativo interpretativo mal riuscito e inidoneo al raggiungimento di questo risultato perché dico che è mal riuscito e inidoneo in primo luogo è mal riuscito perché se uno studiasse a fondo la disciplina delle formazioni sociali ben saprebbe che la famiglia è essa stessa una formazione sociale è una formazione sociale particolare ben saprebbe che ciò che caratterizza la famiglia diciamo da un punto di vista storico culturale e giuridico è appunto la relazione che si instaura tra le parti della famiglia tra i componenti della famiglia cioè quell'affezio quindi quella comunione materiale spirituale di vita è la comunione materiale spirituale di vita che qualifica una formazione sociale come familiare se questo è è evidente che dire che la unione civile è una formazione sociale per non dire che una famiglia non vale di per sé solo escludere perché nel momento in cui ci rendiamo conto che da un punto di vista fattuale anche una coppia di persone del medesimo sesso istituisce e costituisce una comunione materiale spirituale di vita non è dubbio non è discutibile non è pensabile che quella formazione sociale non sia una formazione sociale familiare e questo pregiudizio che cerca come dire di distinguere da una parte la famiglia e dall'altra unione civile è presente in tutta la legge per esempio il legislatore della disciplina sull'unione civile proprio per dire che l'unione civile non è famiglia ma che è formazione sociale in luogo di parlare di vita familiare parla sempre di vita comune per esempio questo accade al comma 7 lettera A ovviamente quasi come per dire che una cosa è la vita familiare costituita all'interno di un matrimonio un'altra cosa è la vita comune delle parti di una unione civile e anche il concetto di riferimento dei componenti perché mentre diciamo rispetto alle parti del matrimonio si parla di coniugi per quanto riguarda i componenti della unione civile si parla di parti quindi da una parte abbiamo i coniugi i nubendi dall'altra abbiamo le parti ed è ovvio che il concetto di parti evoca più la disciplina contrattuale che non la disciplina tipica matrimoniale e ancora non si parla di cognome familiare o di cognome della famiglia ma si parla di cognome comune anche se c'è da dire la espressione familiare e quindi la formula vita familiare scappa al legislatore perché compare credo che sia trattato di un refuso nel momento in cui maneggiavano la legge e non si sono accorti che era rimasta questa espressione perché al comma 12 della legge sull'unione civile compare come dire eccezionalmente l'espressione vita familiare perché dice le parti ovviamente qui le parti e non i coniugi proprio a distanziare ancora questa posizione concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune qui familiare scompare perché dovrebbe essere la residenza familiare qui però scappa e quindi al legislatore avrebbe dovuto dire l'indirizzo della vita comune invece gli è scappato la vita familiare direi che questo è l'unico punto nel quale si parla di famiglia o si usa l'aggettivo familiare nell'ambito della disciplina e dell'unione civile il quadro però è abbastanza chiaro è evidente che c'è un forte pregiudizio talvolta è un pregiudizio ideologico e il pregiudizio ideologico è una cosa è la famiglia perché la famiglia è solo quella tra persone di sesso opposto altra cosa è l'unione civile tra persone del medesimo sesso questo pregiudizio come si realizza da un punto di vista tecnico cercano di realizzarlo da un punto di vista tecnico dicendo che i componenti di una famiglia sono coniugi e i componenti di una famiglia che sono coniugi generano una famiglia in senso proprio i componenti di una coppia omosessuale non sono coniugi ma sono parti e generano una formazione sociale diversa dalla famiglia questo come dire è il tentativo da un punto di vista tecnico di costituire questa differenza è un tentativo come dire privo di rilevanza perché come sappiamo il diritto non può avere una efficacia conformativa a tal punto da escludere la valenza familiare di una formazione sociale che fosse basata sulla comunione materiale spirituale di vita quindi delle due luna o quando io mi trovo di fronte a una coppia di soggetti che ha instaurato una comunione materiale spirituale di vita sono di fronte a una famiglia e allora sarà famiglia sia la famiglia matrimoniale classi diciamo tra persone di sesso opposto sia la famiglia costituita tra due uniti civili oppure devo ripensare integralmente al sistema della famiglia allora come vi dicevo analizzati i pregiudizi ciò che è interessante e importante analizzare è vedere la disciplina dell'unione civile faremo come dire una brevissima carrellata così perché si possa avere un quadro di massima di quella che è la disciplina dell'atto dell'unione civile e quella che è la disciplina del rapporto allora cominciamo ovviamente dalla disciplina dell'atto e cominciando alla disciplina dell'atto diciamo che il primo punto è ovviamente quello della costituzione della pubblicità è evidente che per l'unione civile così come per il matrimonio è prevista una costituzione attraverso l'ufficiale di stato civile con la presenza di testimoni e ovviamente è stata prevista anche la registrazione negli atti dello stato civile diciamo anche questo lo dico così per colorire un po' alleggerire la lezione che in Italia sono accaduti dei fatti abbastanza stravaganti di alcuni sindaci ovviamente nei confronti dei quali il mio giudizio nei loro confronti è di ferma e di convinta disapprovazione e penso che siano stati veramente di poco valore i quali diciamo fondandosi proprio su queste norme in particolare l'articolo comma 2 della legge sull'unione civile hanno ipotizzato che la costituzione dell'unione civile fosse fondamentalmente diversa rispetto alla costituzione di un matrimonio perché si dice due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di testimoni quindi sembrerebbe quasi come tra l'altro manca come dicevo il regime della pubblicità dicevo che proprio sulla base di questo dato di carattere prettamente letterale hanno alcuni sindaci ovviamente ci sono state delle condanne molto severe fortunatamente della giurisprudenza di merito che a me sembra molte volte molto più avanzata quella che è la giurisprudenza di legittimità e a volte anche la giurisprudenza costituzionale quindi devo dire che bisogna dare atto a molti dei nostri giudici di merito della capacità di sapere cogliere il fenomeno culturale del paese che cosa avevano fatto avevano come dire riservato la sala più importante del comune soltanto per i matrimoni mentre la sala nella quale si sarebbero dovuti celebrare le unioni civili era diciamo una stanza di minore importanza quindi non era più il grande salone come dire dell'area dove generalmente si celebrano i matrimoni ma era una piccoletta un piccolo ufficio ovviamente questo comportamento è stato valutato come discriminatorio e quindi questi sindaci sono stati condannati se guardate su internet si vedono anche delle immagini che sono abbastanza evidenti di come questi sindaci si siano mal comportati poi ci sono delle altre caratteristiche la disciplina relativa alla impugnazione perché ciascuna delle parti dell'unione civile gli ascendenti il pubblico ministero possono impugnare quando hanno un interesse legittimo attuale è ammessa l'impugnazione per violenza e dolo e le conseguenze della nullità sono quelle presso a poco richiamate molto analoghe a quelle del matrimonio in questo senso vedete ho utilizzato dei colori che sono quelli verdi e nero nei riquadri neri proprio per indicare che si tratta di una disciplina sostanzialmente molto simile a quella del matrimonio qui invece indico una cosa che è molto diversa pubblicazione l'unione civile non è preceduta dalle pubblicazioni come è noto il matrimonio è preceduto dalle pubblicazioni mentre l'unione civile non è preceduta dalle pubblicazioni e adesso vediamo la disciplina del rapporto allora la disciplina del rapporto anche qui è una disciplina del rapporto che è costruita fondamentalmente sostanzialmente sulla falsariga di quella matrimoniale ci sono diritti e doveri reciproci qui io porrei l'attenzione sul fatto che il legislatore dice che con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano i medicini diritti assumono i medicini i doveri ma la cosa più importante è che c'è l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e materiale e alla coabitazione io porrei l'attenzione sull'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale cioè qui il legislatore sembra quasi che dica a tutte lettere che la caratteristica tipica dell'unione civile è come dire questo obbligo di assistenza materiale e morale cioè a dire che una delle caratteristiche fondamentali dell'unione civile è per l'appunto questa comunione materiale e spirituale di vita e allora è evidente che se questo è il fondamento tipico della famiglia questo fondamento tipico non può non mancare nella disciplina dell'unione civile ciò che risalta all'occhio come una stortura terribile della disciplina è che non c'è l'obbligo della fedeltà come sappiamo nell'ambito del matrimonio tra gli obbligi che nascono dall'unione civile c'è l'obbligo reciproco della fedeltà qui l'obbligo della fedeltà non c'è ma su questo tema torno a brevissimo e quindi lo lasciamo un attimo da parte per quanto riguarda il regime patrimoniale ovviamente i coniugi scusatemi le parti dell'unione civile possono scegliere quindi qui è davvero equiparato in tutto e per tutto alla disciplina dei coniugi in mancanza di una diversa convenzione patrimoniale il regime è quello della comunione dei beni ma le parti possono optare per la separazione dei beni per la comunione convenzionale altro elemento i diritti successori vedete qui ho utilizzato il carattere giallo perché la posizione successoria dell'unione civile è equiparata alla posizione del coniuge questo è il comma 21 sul comma 21 ritorniamo anche se si dice che c'è una assoluta e una totale equiparazione dei rapporti tra il coniuge e l'unito civile sicché si dice che i diritti successori sono esattamente i medesimi vedremo che qui questa affermazione non può essere condivisa in modo pieno ragione per l'acqua l'ho utilizzato questo quadrante giallo perché mentre qui sui doveri e i diritti reciproci sono esattamente identici a parte l'obbligo di fedeltà che risalta in rosso sul regime patrimoniale la situazione identica sui diritti successori nonostante dica che è identica e nonostante vi fosse la intenzione di creare un'identità qualcosa è andato male sullo scioglimento sullo scioglimento ci sono delle forti differenze ovviamente qui parliamo dello scioglimento dell'unione civile cioè quello che come corrispondente nell'ambito matrimoniale sarebbe lo scioglimento degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario o la scusatemi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lo scioglimento del matrimonio quindi quello che chiamiamo con il divorzio qual è la caratteristica? diciamo che oltre alle ipotesi tipiche che sono previste nella legge italiana sul divorzio c'è una ipotesi nuova che è quella indicata alla comma 24 la quale prevede che quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinnanzi all'ufficiale dello stato civile in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione prima di dire è previsto una possibilità di scioglimento semplificata cioè la possibilità che le parti provvedono a uno scioglimento come dire più rapido rispetto a quello e vediamo alle differenze quali sono le differenze la prima la fondamentale la separazione non è prevista mentre la separazione è un istituto tipico del matrimonio la separazione non c'è nella disciplina dell'unione civile quindi gli uniti civili si possono direttamente divorziare quindi si può chiedere lo scioglimento non è necessario passare attraverso la separazione né è previsto una disciplina tipica della separazione e poi questa che io la pongo in rosso ma probabilmente dovrebbe essere posta come disciplina di promozione questa è l'unica cosa in cui la disciplina dell'unione civile mi sembra più progressista rispetto a quella matrimoniale e anzi penso che è il matrimonio che in questo caso dovrebbe come dire conformarsi e approvare questa regola perché o utilizziamo un metodo come quello spagnolo tale per cui il cognome di ciascuno è composto dal cognome paterno e materno insieme oppure la soluzione più ragionevole in luogo di quella tipica patriarcale di una società che ormai non esiste più che era quella immaginata dal legislatore del 42 tale per cui il cognome della famiglia fosse quello del marito in materia di unione civile dove peraltro avremmo due mariti o due mogli quindi dove o in una coppia potrebbero esserci il marito nell'altra entrambi potrebbero essere mariti il legislatore si trovava in difficoltà e ha adottato una scelta che è abbastanza importante io credo che sia anche una scelta che dovrebbe trovare estendersi anche come regola generale anche al matrimonio secondo il quale sono le parti che possono stabilire per la durata dell'unione civile un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi quindi la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome se è diverso facendo una dichiarazione all'ufficiale di stato civile dirò subito questo costituirebbe oggetto di una specifica lezione che è la disciplina se il cognome delle parti dell'unione civile è una disciplina che ha creato notevoli problemi notevoli questioni rispetto alle quali si sono posti molti problemi anche nel caso dell'affiliazione ora fatto come dire questo quadro di carattere generale sull'unione civile bisogna vedere quali sono le tecniche attraverso le quali il nostro legislatore prevede alla disciplina alla regolamentazione delle unioni civili ora se noi guardiamo la disciplina dell'unione civile ci accorgiamo che in realtà questa disciplina si trova fondamentalmente composta diciamo la tecnica di regolamentazione dell'unione civile si combina di tre diversi elementi un primo caso è il mero rinvio cioè dire il legislatore per stabilire qual è la disciplina dell'unione civile si limita a rinviare alle norme del codice civile una seconda tecnica un po' più subdola è quella della riscrittura in luogo di come dire rinviare a norme del codice civile che regolano la disciplina in realtà riscrive la disciplina è ovvio che quando il legislatore interviene attraverso la tecnica della riscrittura significa che vuole modificare qualcosa perché se facesse il rinvio questa modifica probabilmente non la potrebbe fare e poi abbiamo la terza che è il famoso comma 20 devo dire che il comma 20 è il cuore pulsante di tutta la disciplina è la norma più importante di tutta la disciplina allora ipotesi di rinvio l'ipotesi di rinvio un esempio è il comma 19 in tema di alimenti e un altro esempio è il comma 21 in tema di successioni è proprio il comma 21 è un comma che adesso andremo ad analizzare subito proprio per verificare che la disciplina delle unioni civili in realtà anche quando si vale della tecnica del rinvio non sempre riesce al risultato poi abbiamo un esempio di riscrittura ovviamente quando riscrive diceva il legislatore riscrive perché vuole modificare qualche cosa perché se facesse il rinvio se dicesse si applica quella norma quella disposizione andrebbe ad applicarsi integralmente quando ci sono come dire dei casi in cui il legislatore vuole qualche piccola differenza provvede alla riscrittura ci sono due casi molto importanti di riscrittura che adesso andremo a vedere e che sono per l'appunto uno in tema di impugnazione del matrimonio per errore sulla qualità di una persona e l'altro proprio in tema della fedeltà e poi abbiamo la norma che è il comma 20 che è la norma più significativa dell'intera disciplina alla quale riserviamo una parte della lezione autonoma proprio per la importanza che questa disciplina specificamente assume all'interno dell'ordinamento ora vediamo diciamo le altre due tecniche e vedremo come nell'uso delle altre due tecniche sia quella del rinvio sia quella della riscrittura ci sono delle cose che lasciano molto perplessi e che alla fine testimoniano questo forte pregiudizio del legislatore vediamo un rinvio che non funziona e il rinvio che non funziona è proprio il rinvio contenuto all'articolo 1,21 l'articolo 1,21 disciplina in realtà la posizione successoria dell'unito civile e in particolare la norma funziona così all'unione civile tra persone dello stesso sesso vedete come ritorna sempre vi dicevo ridondantemente questa formula si applicano le disposizioni di cui al titolo tredicesimo del libro primo del codice civile nonché gli articoli 116 primo coma 146 in realtà mi sto rendendo conto adesso che questo non è il coma 21 è un altro coma perché il coma questo è il coma 19 in materia di alimenti in realtà il coma 21 è un coma che richiama la disciplina successoria il coma 21 richiama la disciplina successoria in particolare dice a prescindere da quello che trovate nella slide l'articolo 1 coma 21 spessamente stabilisce che alle parti dell'unione civile si applicano le norme successorie in particolare dice che si applicano le norme in materia di successione legittima in materia di tutela dei legittimari in materia di rappresentazione in materia di indegnità in materia di patto di famiglia quindi ovviamente richiama tutti quei profili di modo tale che la posizione dell'unito civile e la posizione del conio da un punto di vista successorio siano esattamente corrispondenti ora nonostante come vi dicevo c'è questa assoluta corrispondenza a che cosa il legislatore non ha fatto il riferimento il riferimento non è stato fatto alla disciplina testamentaria il ragionamento con il quale ha lavorato il legislatore è molto semplice cioè il legislatore ha detto a che serve riferirsi alla disciplina testamentaria se il testamento è l'atto con il quale ciascuno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere è evidente che io non ho la necessità di richiamare la disciplina quindi il legislatore fa un rinvio all'articolo 1,21 a tutta la disciplina della successione ovviamente non fa il riferimento alla disciplina testamentaria peccato peccato che nella disciplina testamentaria c'è l'articolo 692 in tema di sostituzione fede commissaria ora tutti ricorderete che cos'è la sostituzione fede commissaria la sostituzione fede commissaria non è altro che quell'istituto in forza del quale tra l'altro ciascun coniuge potrebbe istituire qualora il proprio coniuge sia affetto da una infermità un altro soggetto che lo curi di modo che quando poi il proprio coniuge dovesse mancare i beni vengano trasferiti alla persona o all'ente che si è preso cura del soggetto si tratta di una norma eccezionale perché di fatto prevede una sostituzione successiva che nel nostro ordinamento non è tendenzialmente consentita ora questa norma non è richiamata sicché rispetto a questa norma si pone il problema sicuramente un coniuge può fare una sostituzione fede commissaria a favore dell'altro coniuge quando non ricorrono le condizioni lo può fare l'unito civile altra norma la norma di cui l'articolo 699 è in tema di premi di nozialità sicuramente si può applicare nei rapporti tra i coniugi ma si può applicare anche nei rapporti tra uniti civili ancora l'articolo 636 in tema di divieto di nozze è quella norma la quale dice che è nulla la disposizione testamentaria fatta sotto la condizione che una parte non contragga nozze quindi sicuramente è nulla questa disposizione e se io faccio una disposizione con la quale istituisco erede un soggetto sotto la condizione che non contragga unione civile la norma si applica o non si applica e ancora la norma dell'articolo 596 in tema di incapacità del tutore e del produtore norma la quale dice che se una persona è incapace e viene nominato un tutore o un produtore questo produtore o produtore non può ricevere per testamento a meno che non sia parente o coniuge quindi se è coniuge sicuramente può ricevere e se è unito civile può ricevere insomma il mancato richiamo alla disciplina testamentaria e il mancato richiamo anche a taluna norme nelle quali il fatto della esistenza di un vincolo matrimoniale o di un matrimonio è molto importante quindi la circostanza che l'editulatore non abbia richiamato crea un vuoto ora io penso che nessuno possa pensare che queste norme non si applichino e tutti siamo assolutamente convinti che queste norme si possano e si debbano applicare anche all'unito civile il problema è che bisogna capire in che modo si applicano e bisogna capirlo attraverso il comma 20 perché non essendo una norma espressamente richiamata l'unico modo dovrebbe essere quello del comma 20 questo è evidentemente un problema aperto che è un problema che si deve risolvere attraverso il comma 20 ora vediamo le ipotesi di riscrittura ci sono come dicevo due ipotesi attraverso le quali il legislatore provvede alla riscrittura vi dicevo che la seconda tecnica è quella della riscrittura e con la riscrittura il legislatore che cosa fa? non fa altro che creare un sistema attraverso il quale come dire vuole evitare che una disciplina venga integralmente trasposta e quindi delle differenze e una tecnica di riscrittura è utilizzata per l'errore in particolare per la disciplina dell'impugnazione dell'unione civile in caso di vizi della volontà l'esempio che io prendo e che mi sembra significativo è l'articolo 122 comma 3 numero 1 e l'articolo 1 comma 7 lettera queste due norme in realtà prevedono una disciplina analoga vediamo che cosa è cambiato questa è la disciplina dell'articolo 122 e questa è la disciplina dell'articolo 1 se noi le mettiamo a confronto entrambe queste discipline ci dicono che la parte dell'unione civile o il coniuge può impugnare il matrimonio se c'è stato un errore sulle qualità della persona questo errore che cosa deve riguardare nel matrimonio si dice l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuali tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale qui si dice l'esistenza di una malattia fisica o psichica tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale in realtà a essere precisi dice la vita comune quindi torna il tema della vita comune quindi non coniugale anche se qui c'è scritto coniugale c'è scritto comune comunque che cosa è chiaro è chiaro che nella disciplina sull'unione civile manca un'anomalia o una deviazione sessuale e allora qui sorge il dubbio perché manca perché il legislatore non ha voluto considerare impugnabile per errore una unione civile nel caso in cui una delle parti fosse affetta da un'anomalia o una deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale qui come dire scherzandosi potrebbe dire che il legislatore non lo ha previsto perché pensava proprio che le persone dello stesso sesso che si raccolgono in un'unità familiare sono già delle deviazioni sessuali pensava che l'omosessualità era una deviazione sessuale quindi se pensava che l'omosessualità era una deviazione sessuale o un'anomalia sessuale automaticamente doveva escluderlo in radice perché dice già sono deviati anomali di natura come posso io ammettere l'annullabilità e questa considerazione che io faccio così un po' per scherzo in realtà problematicamente direi che forse è all'origine di questa mancanza e quindi una disciplina che crea un problema molto grave e nella quale soprattutto il legislatore dimostra come dire una mancanza di cultura e dimostra come dire un problema sistematico gravissimo in primo luogo il problema vero qual è? che c'è il rischio c'è il sospetto che il legislatore abbia pensato che l'anomalia o la deviazione sessuale fossero davvero la omosessualità e quindi sulla base di questo le abbia tolte maldestramente questo però crea una cosa terribile in primo luogo perché come sappiamo l'orientamento sessuale e in particolare quello omosessuale non può essere considerato né una deviazione né un'anomalia il che significa che il legislatore non ha neanche idea di che cosa sono le anomalie sessuali e le deviazioni sessuali e allora cerchiamo di capire che cos'è l'anomalia le anomalie sono tutte quelle anomalie organico funzionali ossia quelle situazioni clinico patologiche qui si parla di situazioni come dire che riguardano il soggetto e quindi che riguardano delle anomalie organico funzionali mentre le deviazioni sessuali dovrebbero essere i comportamenti patologici difformi da quelli comunemente considerati normali ossia discordanti da quelli assunti dalla generalità degli individui tra l'altro diciamo subito che la deviazione sessuale è una parola che oggi non si usa più perché è stata eliminata dal vocabolario medico e in luogo della parola deviazioni sessuali si usa quella di parafilia che cosa sono allora le parafilie sono quei comportamenti nei quali un soggetto manifesta una possibilità di accitarsi soltanto in determinate situazioni e attenzione che le parafilie diventano rilevanti nel nostro ordinamento giuridico secondo quella che è la scienza medica attuale non quando il soggetto come dire abbia un'eccitazione attraverso una di queste parafilie ma quando la parafilia diventi l'unico modo attraverso il quale il soggetto possa raggiungere l'eccitazione e allora è evidente come l'anomalia sessuale richiama un'anomalia organico funzionale mentre le parafilie richiamano comportamenti patologici cioè quel comportamento nel quale un soggetto riesce ad eccitarsi solo ed esclusivamente all'interno di una determinata parafilia allora vediamo quali sono le anomalie sessuali le anomalie sessuali più classiche sono l'assenza anatomica dell'organo la mancanza o disfunzione dei testicoli la vasectomia il vaginismo l'adeguatezza seccità della vagina la mancanza dell'ovaio delle tube vi è anche il caso della impotenza e forse quello più significativo è della intersessualità cioè quella ipotesi in cui un soggetto nasce con cromosomi che sono sia maschili che femminili per quanto invece riguarda le parafilie quali sono? partiamo come dire dalle parafilie che sono quelle più diciamo meno particolari sino ad arrivare alle più mostruose che la storia conosca quindi partiamo da situazioni molto semplici come l'esibizionismo il feticismo il frotterismo sino ad arrivare come dire a quelle più gravi che sono la zoofilia la retrofilia e diciamo in assoluto la pedofilia ovviamente tra le parafilie non c'è l'orientamento sessuale e allora se intendiamo davvero che cosa sono le anomalie sessuali che cosa sono le parafilie la circostanza che il legislatore abbia escluso che una parte dell'unione civile possa impugnare la propria unione in caso di anomalia o deviazione sessuale del partner è un grave errore è un gravissimo errore perché secondo questa disciplina se io mi accorgo per esempio che il mio partner dell'unione civile è affetto da zoofilia da necrofilia o addirittura da pedofilia questo non mi attribuirebbe il potere di chiedere l'annullamento per errore quindi capite quanto è grave questa disciplina è evidente che anche se il legislatore all'articolo 1,7 lettera A diversamente da quanto ha fatto all'articolo 122,3 numero 1 del codice civile ha voluto eliminare il riferimento all'anomalia o deviazione sessuale questa eliminazione del riferimento è assolutamente inaccettabile questa eliminazione è assolutamente inaccettabile e di conseguenza è indispensabile applicare anche questa norma non credo che ci sia una sola persona che possa duvidare che la parte dell'unione civile nel momento in cui scopre perché non lo sapeva prima che la parte dell'unione civile è affetta da una pedofilia soprattutto da una pedofilia grave quale potrebbe essere la zoofilia la microfilia addirittura la più mostruosa di tutte la pedofilia non possa chiedere nullamento per errore è evidente che qui bisognerà ancora una volta lavorare sull'articolo 20 facciamo un'altra ipotesi di mancato rinvio come la precedente che è quella della fedeltà da una parte abbiamo l'articolo 143 del codice civile dall'altra parte l'articolo 1,11 se io li metto a confronto sono delle norme che prevedono esattamente la medesima disciplina il legislatore non fa il rinvio non dice si applica l'articolo 143 ma riscrive l'articolo 143 al comma 11 e lo riscrive perché vuole eliminare la fedeltà e vuole eliminare la collaborazione nell'interesse della famiglia lasciamo stare il tema della collaborazione nell'interesse della famiglia che mi sembra il tema come dire meno importante quello che davvero si balza all'occhio che manca è l'obbligo della fedeltà anche qui come dire si tratta di una scelta criticabile e soprattutto è una scelta tale per cui l'assenza della previsione dell'obbligo di fedeltà dal mio punto di vista non esclude che anche nella coppia di persone unite civili ci voglia la fedeltà ci sono almeno due angoli prospettici attraverso il quale questo fenomeno dovrebbe essere indagato allora il primo il legislatore dimostra di non avere idea di che cosa è l'obbligo di fedeltà il secondo il legislatore muove da un presupposto e da un pregiudizio che ancora una volta viene il sospetto che sia terribile il presupposto dal quale sembra che il legislatore muova ed è terribile pensare che sia vero ed è purtroppo così se noi andiamo a guardare i lavori della legge parlamentare è che il nostro legislatore pensa che alla fine le persone dell'unione civile e quindi le coppie del stesso sesso sono tendenzialmente promiscue e quindi non c'è una fedeltà quando l'editatore pensa questo diciamo commette un insieme di errori che sono un errore culturale perché come dire si lascia trasportare da un pregiudizio che è soltanto un pregiudizio che non ha nessun fondamento scientifico e che di conseguenza è assolutamente inaccettabile però poi al di là come dire di questo profilo di assoluta inaccettabilità da un punto di vista tecnico c'è da un punto di vista culturale sociale c'è come dire un errore tecnico fondamentale cioè il legislatore identifica l'obbligo di fedeltà con la fedeltà sessuale e questo è un errore gravissimo nel diritto di famiglia contemporaneo perché la nostra giurisprudenza e la nostra dottrina da anni ha dimostrato che quando si parla della fedeltà non si parla solo della fedeltà sessuale ma il concetto di fedeltà è un concetto molto più ampio di quello della fedeltà sessuale se è vero quindi che il concetto di fedeltà è molto 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 più ampio rispetto a quello della fedeltà sessuale è un concetto che riguarda proprio il rapporto della coppia quindi quella fedeltà indica in realtà quel rispetto reciproco che si devono le parti della coppia e allora se io tengo conto di questo è evidente che la circostanza che il legislatore l'articolo 1,11 abbia eliminato la parola fedeltà non significa che l'obbligo di fedeltà non ci possa essere perché se mancasse l'obbligo della fedeltà nella accezione nella quale la nostra giurisprudenza oggi lo intende è evidente che non si potrebbe neanche pensare che c'è una formazione sociale di base familiare perché quella fedeltà costituisce un elemento intrinseco fondamentale della comunione materiale spirituale di vita che costituisce quell'affezio sulla quale si basa qualunque sistema familiare tra l'altro se poi ci limitassimo a pensare a quella sessuale è evidente che non avrebbe neanche rilevanza perché addirittura l'obbligo di fedeltà come sappiamo può essere derogato nel matrimonio le parti negli atti di indirizzo di vita comune possono stabilire per esempio di derogare all'obbligo di fedeltà pensiamo a tutte le coppie eterosessuali sposate cosiddette aperte cioè nelle quali hanno reciprocamente deciso di eliminare l'obbligo di fedeltà ma soltanto l'obbligo della fedeltà sessuale perché l'obbligo della fedeltà come il rispetto reciproco deve permanere perché quando non va a permanere questo tipo di obbligo questo significherebbe che in realtà manca il sistema familiare quindi non c'è scritto che le coppie unite civili hanno l'obbligo di fedeltà io credo che nessuno possa dubitare se davvero si tratta di un sistema familiare come io credo che sia che l'obbligo della fedeltà ci debba essere quindi è evidente che bisognerà lavorare sul comma 20 questo significa che una disciplina chiave di tutta la unione civile è la disciplina del comma 20 che è una disciplina sulla quale bisognerà porre specificamente attenzione considerando che essa si articola in tre parti e queste tre parti sono tre parti fondamentali però la disciplina del comma 20 penso che debba costituire oggetto di una lezione autonoma grazie